buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 9 maggio 2023 cominciamo subito con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi oggi è la festa di san paconio visse tra il terzo e il quarto secolo prima soldato poi monaco redasse la prima regola del cenobisbo monastico in lingua copta imponeva digiuni preghiere lavoro manuale e lo studio della bibbia pensate che attorno a questa regola nel 400 c'erano già 5000 monaci che la osservavano quindi un impegno una opera che ebbe un grande risalto e una grande adesione questo è san paconio bene dopo vediamo le previsioni del tempo il tempo un pochino si guasta rispetto alle belle giornate dell'ultimo weekend vediamo qui la grafica della regione marche ci sono nubi sparse e schiarite anche ampie maggiori annuvolamenti sulle zone interne nelle ore pomeridiane le temperature si aggirano tra i 12 e 20 gradi quindi sono ancora gradevoli i venti sulle coste spireranno da una direzione di nord ovest nell'interno da est nord est il mare è leggermente mosso ed ora con questo inizio diamo invece voce alle notizie che appaiono sui giornali a partire oggi dal resto del carlino e vediamo l'apertura l'apertura è dedicata a una cosa diciamo che è un po' nascosta che non tutti conoscono si tratta di un museo di un museo fanese che è molto bello è molto prezioso ma forse un po' così snobbato dai cittadini è il museo etnico bagnaresi un museo che si trova nel piano superiore di palazzo bracci pagani dove abbiamo una parte di le opere esposte l'altra invece e sono nei piani superiori della sede della fondazione carifano vediamo il titolo che appare poi vi spiego anche la natura della notizia girava il mondo e collezionava sculture ora quel tesoro è un museo sempre più ricco e beh chi è che girava il mondo girava il mondo maria teresa bagnaresi la figlia di un noto medico che operò nell'ospedale santa croce dagli anni 30 agli anni 60 del secolo scorso è una signora che ha girato il mondo ha visto tante tanti paesi tante nazioni e da lì ha riportato delle opere d'arte veramente pregevoli quelle che vengono mostrate oggi in questa notizia sono degli avori degli avori lavorati con una tecnica ed un'arte sopraffina veramente artisti eccezionali che hanno inciso nell'avorio nelle zanne di elefante opere mirabili le vediamo qui nelle mani del presidente della fondazione carifano giorgio gragnola ma anche di coloro che operano sono veramente i cultori della materia e che custodiscono il il museo vediamo aldo mancurdi vediamo ciavaglia vediamo altri operatori che hanno in mano per esempio questa è una zanna di mammut pensate una zanna di mammut lavorata con dei paesaggi abbiamo dei ponti delle case degli uomini che giocano su un tavolo da gioco insomma veramente delle cose molto molto belle e addirittura ci sono anche delle opere piccolissime quasi microscopiche miniaturistiche possiamo dire sono i nezuke che i giapponesi utilizzavano come bottoni per assicurare la borsa che poi legavano al kimono il kimono che non aveva tasche e quindi loro in questa piccola borsetta contenevano soldi e quanto necessario e sono veramente delle opere d'arte deliziose pensate il museo ne ha più di 200 veramente una quantità mirabile comunque oltre 9 oltre 40 sculture sono state oggetto di una nuova donazione ecco perché ieri è stata presentata questa iniziativa alla stampa provenienti dalla cina e dal giappone sono entrata a far parte del museo etnico bagnaresi della fondazione cassa di risparmio museo che conserva 2700 opere veramente è una cosa eccezionale andarlo a vedere si rimane suggestionati dalla bellezza direi così ma anche dalla tecnica di questa arte sopraffina quei reperti li volevo solo sistemare ora finiranno dimenticati negli scatoloni parla lo studioso dopo il processo si parla di una situazione qui particolare che vi invito a leggere ed ora passiamo alle altre notizie la stessa notizia ovviamente è riportata anche dal corriere adriatico vi faccio vedere il titolo tesori etnici in mostra palazzo bracci pagani esotici avori intarsiati il lascito di bagnaresi alla fondazione carifano di questo comunque abbiamo già parlato ed ora diamo un'occhiata invece ad un servizio molto importante per le famiglie quello dei centri estivi terminato l'anno scolastico i bambini restano a casa e questo rappresenta anche un problema per i genitori che lavorano e che non hanno un sostegno parentale dove lasciare i bambini ebbene il servizio dei centri estivi è un servizio importante però non è per tutti perché le domande hanno superato le disponibilità centri estivi 80 famiglie saranno poste in lista d'attesa sono 130 le domande accolte su 210 che sono state presentate l'assessore mascarin dice è stata aumentata la disponibilità di posti e anche le risorse di più non riusciamo a mettere a disposizione malgrado l'aumento di 15 posti nei nidi e circa 40 per cento delle domande è rimasta in evasa i centri estivi saranno attivi dal 3 luglio al 4 agosto al grillo ci sarà posto per 55 bimbi da 0 a 3 anni 26 quelli in lista d'attesa visto che le domande presentate sono state esattamente 81 per quanto riguarda invece la scuola dell'infanzia a gallizzi la scuola materna quella che ospita i bambini dai 3 ai 6 anni vi potranno accedere per il periodo estivo 80 bambini su un totale di 134 richieste questo implica che ne rimangono fuori 54 ebbene è un caso di incontro tendenza quello che sta accadendo a fano perché altrove abbiamo una riduzione delle nascite e quindi anche una riduzione delle domande per quanto riguarda le prime le prime fasce d'età che vanno a scuola invece a fano le domande aumentano quindi è un buon segno chissà se poi aumentano veramente anche le nascite vediamo una notizia di cronaca a centro pagina un incidente stradale di particolare rilevanza sbalzata dalla bici fa un volo di 15 metri e arriva l'elicottero per portarla all'ospedale di Torrette di Ancona lo scontro con un autocarro è avvenuto alla rotatoria nei pressi di Rosciano ferita una 58enne fanese che pedalava lungo la retatoria a un chilometro da Rosciano proveniente da via Papiria con direzione Maremonte la donna è stata investita da una Renault Kangoo guidato da un 38enne di Senigallia che procedeva in via Moriconi con direzione Pesaro Ancona ebbene giunto alla rotatoria il Renault non ha dato la precedenza alla bici elettrica su cui pedalava la donna che è stata investita sbalzata in aria finendo poi cadere sull'asfalto per fortuna non ha mai perso coscienza è stata sempre vigile ma è stata trasportata in elisoccorso al Torrette di Ancona che non sia in pericolo di vita a fondo pagina invece abbiamo una nuova appello per quanto riguarda le terme di Carignano lanciato da Beatrice Morbidoni, leader del Comitato per la valorizzazione delle terme ebbene ancora non si ha alcuna notizia per quanto riguarda gli investimenti che il gruppo Romani ha annunciato di fare nel complesso di Carignano ma lì si è sospetta probabilmente la decisione della regione per l'affidamento della convenzione per 50 posti di ortopedia che vengono un po' così contesi dall'ospedale di Fano, dalla struttura di Pesaro insomma questi 50 posti sono un po' ballerini acquisite le concessioni minerarie ma il progetto delle terme arranca il Comitato in calza e chiede garanzie sui 50 posti letto di ortopedia vediamo le altre notizie e vediamo che domani si darà l'ultimo saluto a Tommaso della Dora il segretario del Partito Democratico Fanese che è deceduto in seguito ad un malore improvviso due giorni fa slittano a questa mattina gli accertamenti medici che vengono compiuti all'ospedale Santa Croce per accertare le esatte cause della morte dal pomeriggio sarà aperta la camera mortuaria per l'ultimo saluto dei parenti, degli amici, dei compagni di partito di tutti coloro che hanno avuto un rapporto con questo personaggio che era versamente proiettato verso gli altri era un educatore che ha fatto del bene, che ha sollevato tante tante situazioni precarie il funerale, ripeto, è alle 10 nella chiesa di Santa Maria Goretti di domani appunto a Santosso vediamo questo articolo a fondopagina sul resto del Carlino no al biodigestore Feronia Cirinunci è l'appello del capogruppo di minoranza di terre roveresche Marcucci che chiama raccolta tutti i sindaci del territorio e chissà se Feronia accolga questo appello che è un po' condiviso da tutta la popolazione del luogo tutti i residenti a Durbino si stipola un mutuo per effettuare nuovi interventi a Palazzo Nuovo uno dei palazzi principali della città che guarda sulla piazza principale, sul centro storico sul cuore della città di Urbino fa parte del legato Albani l'edificio in piazza della Repubblica di proprietà appunto del legato Albani suberà ulteriori interventi il Partito Democratico però si astiene nel votare la delibera in Consiglio il legato Albani prepara dunque nuovi interventi su Palazzo Nuovo per farlo accenderà un mutuo chirografario che gli permetterà oltre a coprire i costi dei lavori anche di coprire le spese di un altro mutuo che aveva acceso in precedenza però insomma la delibera che è stata poi portata all'approvazione in Consiglio Comunale è stata votata con l'astensione appunto del gruppo del Partito Democratico invece una bella soddisfazione per questi ricercatori di Urbino analisi chimica team urbinate su Nature il gruppo di ricerca coordinato dal professor Cappiello ha messo a punto un metodo per i risultati in tempo reale ovvero quando si fanno le analisi ottenere subito dei risultati è fondamentale anche per riuscire poi in vari campi a ottenere delle risposte immediate si tratta dell'applicazione della nuova tecnica LAMS che si affida alla spettrometria di massa per l'identificazione delle sostanze ovvero attraverso la rilevanza della spettrometria si riesce a capire quale sostanza è presente nel nucleo che è da analizzare la nuova tecnica è stata testata con successo in vari ambiti dunque vediamo un po' quali sono questi ambiti è l'ambito forense che rivela la presenza di droghe d'abuso su una banconota poi abbiamo il settore dei beni culturali in cui esaminando diversi strati di pigmenti si capisce quali colori sono stati usati in un'opera pittorica nell'ambito farmaceutico si identificano i principi attivi dei farmaci in forma di compresse poi abbiamo applicazione anche nel campo della sicurezza alimentare in modo particolare nella identificazione dei pesticidi che poi sono dannosi alla salute e così via dicendo insomma analisi che possono avere dei risultati immediati grazie a questo team di ricerca passiamo ora a Fossombrone dove ci si prepara per la tappa del Giro d'Italia Giro d'Italia Fossombrone blindata ovviamente le strade saranno vietate all'accesso dei mezzi motorizzati però sembra che la situazione non sia molto chiara perché le strade chiuse, quelle non chiuse, dove si passa, dove non si passa sono state rese note tramite dei pdf non tutti hanno una pratica con questi sistemi di carattere informatico magari utilizzando con il cellulare i percorsi disponibili sono stati segnalati appunto con questo metodo virtuale ma le vie non si leggono in modo chiaro e c'è chi non capisce questo è un po' il senso di questo articolo e allora ciò detto diamo un'occhiata anche alla pagina di Pesaro dove si parla diffusamente eccolo qua di quello che sta accadendo alla ditta Berloni ormai siamo agli sgoccioli siamo alla fine Berloni bocciato il concordato si aprono le porte del fallimento i giudici hanno rigettato la richiesta perché non c'è continuità nell'attività industriale sono mesi che non si producono più cucine e anche il personale è completamente assente a tentare di salvare il marchio era stato il taiwanese Wang i suoi legali annunciano ricorso ma sembra proprio che non ci sia più nulla da fare nessun operaio è in carico all'azienda ma i dipendenti vantano ancora arretrati per 540 mila euro il salvataggio dello storico marchio di cucine l'aveva tentato appunto questo operatore di Taiwan però insomma anche questo tentativo è fallito e allora parliamo di gastronomia parliamo di gastronomia in un modo un po' particolare si parla molto in questi ultimi tempi di cibi esotici si mangiano i grilli si mangiano gli insetti ebbene questa gastronomia è arrivata anche nel nostro territorio vediamo che la pagina di Pesaro evidenzia un menù particolare metti un insetto a cena le formiche entrano nel menù lo chef croccanti e profumate secondo lui Giuseppe Portanova propone nel suo locale un piatto con hormigas cicatanas questo è il nome delle formiche che giungono dal Messico l'idea dice mi è venuta dopo un viaggio i clienti beh la reazione è di stupore ma sono incuriositi la portata, il piatto costa 24 euro insomma non è molto molto economico ma ci sono ingredienti che vengono da lontano ebbene si tratta di un piatto ve lo accenno brevemente a base di tonno un crudo di tonno che è esaltato dalla croccantezza leggermente affumicata ed erbacea delle formiche ovvero formiche alate che arrivano direttamente dal Messico non vi sto a spiegare il piatto perché è veramente un po' molto molto elaborato comunque tutto è descritto in questo articolo un crudo di tonno pinna gialla nel piatto c'è anche un sorbetto di agrumi e poi c'è un nakos di mais terra bio fritto insomma veramente è un piatto molto molto elaborato con un sapore esotico ma anche questo si può ovviamente provare ebbene Marche Multiservizi è ancora alle prese con l'aumento degli stipendi che tanto clamore tanta sensazione hanno sollevato tra i cittadini Marche Multiservizi ancora alta tensione sì alla nuova assemblea sui compensi ieri il consiglio di amministrazione ha dato l'ok alla convocazione c'è la consegna del silenzio dopo l'incontro ma ecco cosa emerge ebbene bocche cucite dopo questa riunione del consiglio di amministrazione si è solo saputo che sarà riconvocata l'assemblea dei soci di Marche Multiservizi probabilmente il 29 maggio per ridiscutere i maxi aumenti agli amministratori e cosa è venuto fuori quello che si è saputo dal consiglio di amministrazione è che il sindaco Gambini ha confermato il suo parere favorevole ai nuovi compensi maggiorati ma sostiene che la delibera che è stata approvata a suo tempo dall'assemblea non è legittima perché è stata votata anche dagli stessi beneficiari degli aumenti e quindi è tutto da rifare poi Gambini ha così presentato una lettera una lettera a sorpresa prima della riunione la mossa di Gambini il sindaco di Urbino e poi vediamo un articolo che riguarda un dramma un dramma che è accaduto a Villabetti travolto dalla balla di Fieno mentre lavora con il figlio mentre era intento a lavori agricoli un 73enne colpito da due quintali di peso caduti da circa due metri ebbene e l'incidente ha procurato una gamba fratturata e un bacino schiacciato è stato soccorso in Eli Ambulanza e anche lui portato al Torrette di Ancona vediamo ora il Corriere Adriatico l'apertura è dedicata a nuovo intervento dell'amministrazione comunale sulle asfaltature si incomincia in questo mese di maggio un nuovo un nuovo intervento che si prolungherà poi per tutto il mese contro le strade con la Brodo il Comune ci mette nuovi 2 milioni oltre ai 5 milioni e 500 mila che aveva già stanziato in precedenza e quindi abbiamo un importo di 7 milioni forse uno dei più rilevanti che è stato così messo a disposizione nell'arco di due anni in tutta la storia dell'amministrazione comunale ma evidentemente le strade di Fano hanno bisogno di questi interventi perché molte sono in condizioni veramente pietose nuovo piano delle asfaltature che è stato presentato dall'assessore lavori pubblici Barbara Brunori un occhio di riguardo anche ai quartieri periferici e questo un po' c'è l'elenco degli interventi che vengono effettuati in questo periodo e sono un po' interventi che sono un po' dappertutto sono un po' macchia di leopardo in tutta la città l'abbiamo a Lido l'abbiamo verso la Paleotta l'abbiamo nella zona industriale di Bellocchi insomma dove veramente c'è bisogno di tutte queste cose variante all'ultimo respiro ancora a rischio i 20 milioni si parla della variante di Gimarra la provincia chiede la valutazione di impatto ambientale in comune giungono 100 osservazioni ma il tutto comunque deve essere concluso deve essere stabil deve essere assegnati i lavori entro il 31 giugno prossimo altrimenti si perdono i 20 milioni che la regione tramite i fondi europei ha assegnato al comune di Fano soldi a cui poi il comune stesso ha aggiunto altri 5 milioni per cui tutta l'opera costerà 25 milioni di euro ebbene ora si cerca di correre a sprombattuto ma il percorso è ancora irto di ostacoli poi abbiamo un articolo che così evidenzia il successo della Colle Marathon che si è svolta domenica scorsa al Pincio questa bella cornice di tipo storico archeologico monumentale che rappresenta l'ingresso principale alla città Annibale Montanari soddisfatto non faccio che ricevere complimenti ha detto e si rallegra Annibale Montanari che non si stanca di rendere merito all'esercito dei volontari a cui si deve gran parte del successo di questa manifestazione sono volontari sempre straordinari ha detto anche se ribadisco che c'è bisogno di tante forze fresche fondamentale l'apporto di Gino Bartolucci e della Proloco e a quelle istituzioni che però chiama già rapporto per il futuro insomma complimenti a chi ha già operato ma ancora un appello perché chi non ha operato operi sempre di più insomma aderisca anche lui a questa bella iniziativa anche sul Corriere Adriatico abbiamo un articolo che riguarda le terme di Carignano dove nulla si muove quindi così le sollecitazioni gli appelli insomma gli inviti della della cittadinanza ad intervenire perché veramente non si vede l'ora che questo progetto affronti il periodo esecutivo e quindi faccia rinascere questa bella vallata vediamo a San Costanzo a San Costanzo c'è l'impegno l'impiego anzi del avanzo di bilancio verrà impiegato soprattutto nell'asfaltature e nel rifacimento di marciapiedi c'è un milione da spendere in realtà l'avanzo di bilancio di due milioni e mezzo ma la cifra spendibile è di 969 mila euro l'avanzo verrà destinato prevalentemente per nuovi asfalti nuovi marciapiedi e straordinarie manutenzioni salvaguardando comunque le esigenze dei cittadini senza dover ricorrere ad anticipazioni di cassa o debiti fuori bilancio sono state delle dichiarazioni del vice sindaco Ciani siamo ormai in conclusione voglio soltanto riferirvi una notizia di Senigallia troppi rifiuti scoppia la grana dei cestini pieno di turisti che bel biglietto da visita in senso ironico ovviamente il giornale esprime l'ira degli operatori per la sporcizia che c'è stata sul lungomare nell'ultimo weekend e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani sempre alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per la visione